Ciao ragazzi, ciao a tutti i miei discepoli, faccio questo video intanto per ringraziarvi perché luglio è stato un mese della madonna, un mese dei record e per avvisarvi che questa sera a mezzanotte scade l'offerta del video gratuito con ogni ordine video tutorial, video corso, mi raccomando video molto importante dal valore di 97 euro quindi se siete lì per fare un ordine, se dovete prendere qualcosa oppure se volete un contenuto in più che vi aiuterà poi a impostare anche la pianta in futuro ragazzi, approfittate per questa sera, il video finisce ok? Ciao a tutti, grazie mille